biblioteche e fiabe letture per bambini a cura delle biblioteche comunali di perugia il primo giorno di scuola di rani autore seril rao lettura a cura di melissa palermi volontaria del servizio civile presso biblioteca comunale sandro penna di perugia è il mio primo giorno a scuola la mamma mi tiene per mano e cammina con me sono cresciuta ora dico lascia andare lascia andare la mamma mi stringe la mano molto forte ci sono molti bambini vicino alla scuola arrivano in autobus arrivano in macchina vengono con il riscio con la bicicletta camminano come me raggiungiamo il cancello la mamma mi lascia la mano lei sarà al cancello devo andare da sola ci sono molti volti nuovi intorno a me faccio un passo faccio un altro passo mi guardo indietro la mamma diventa più piccola mentre me ne vado lei scomparirà corro da lei non mi sento così cresciuta le tengo la mano non andare via dico tutti sono dentro adesso sono l'unica fuori l'insegnante esce lei mi sorride ricambio il sorriso la mamma dice rani sarò qui quando esci ho lasciato andare la sua mano lei mi saluta corro dentro la mamma sarà lì dopo la scuola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti